Il Partito Democratico torna a parlare della questione delle terme di Caramanico. Voi proponete tre soluzioni per la riapertura di questo importante presidio sanitario della Val Pescara. Oggi insieme al gruppo Uniti per Caramanico vogliamo resocontare il lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi, un lavoro di incontri anche con esperti sul termalismo che avrebbe dovuto fare la maggioranza regionale e che non ha fatto, perché sottolineiamo la passività con cui si sta affrontando questo problema. Da settembre del 2021 la concessionaria precedente è formalmente fallita, quindi hanno avuto anche la decadenza della concessione. Noi vogliamo proporre tre soluzioni perché siamo preoccupati dal fatto che la curatela per i costi e per i tempi necessari alla vendita sicuramente non potrà gestire le terme perché vorremmo che la prossima estate le terme di Caramanico fossero aperte, non soltanto per Caramanico ma per tutta la parte della Maiella che è interessata a questo complesso termale. Quindi la prima ipotesi è quella di una gestione in house da parte della regione Abruzzo. Lo si può fare, vogliamo ricordare che la regione Abruzzo chiedeva la gestione diretta anche delle naiate di Pescara, quindi è del tutto fattibile. La seconda è quella di partecipare alla prima asta o altrimenti di eseguire l'os proprio per fare in modo che concessione delle strutture e concessione dell'acqua, che sono due concessioni diverse tenute da due soggetti diversi, possono essere fatte dalla regione Abruzzo e rese appetibili. E la terza è la possibilità di gestire con un partenariato pubblico-privato, ma questo dovrebbe essere sottoposto naturalmente alla curatela, al giudice fallimentare, le terme. La necessità è quella che per la prossima estate le terme siano realmente in funzione. Grazie a tutti.